Ciao, sono Stefano Savini, siamo qui nella nostra sede degli agrumi, che vi presentiamo la nostra pianta di limone a 4 stagioni. Che cos'ha questa pianta di limone in particolare? Questa pianta di limone è già bella grande, robusta, ha già i frutti appesi, quindi quando vi arriverà a casa vi troverete una pianta imballata in uno scatolone con protezione in polistirolo perché non prenda urti durante il trasporto con i Corriere Express. Questa pianta rifiorisce tutto l'anno, quindi più volte all'anno farà i fiori e farà di conseguenza i frutti, quindi potete inserire nel vostro giardino una bellissima pianta tenendola a riparo giusto quei mesi invernali che fa molto freddo e potete gustarvi tutto l'anno il sapore del limone fatto nelle vostre case. Ciao!